Anche Loredana Conte si scopre alla Befana Subacquea. Cosa ci fai qua? Sono stata invitata per fare l'assistente della Befana perché sembra che io possa avere tutte le caratteristiche per essere non ancora Befana, però assistente. Quindi insomma la carriera va avanti bene in questo senso. E allora con molta gioia sono qui perché è sempre una festa, anche se oggi per la verità è una festa un po' triste insomma per il fatto che comunque fra tutti i bambini una bambina manca, però abbiamo una stellina in più in cielo. Rossano Galtarossa, campione olimpico. Dylan Trenti, il nostro campione promettente. Allora io oggi ho avuto modo di conoscere qui Dylan che è una promessa della canova discesa, quindi anche se vengo dalla pratica del canottaggio, quindi è uno sport cugino, ma comunque che richiede la presenza dell'acqua, delle barche, degli attrezzi remieri, vi auguro un sincero e grosso in bocca in bocca al lupo. Grazie mille. Per cui insomma per me è sempre un grande piacere e un grande onore essere qui a fare il testimone alla questa Befana Subacquea, tra l'altro oggi sono qui vicino a questo grande, ma grande anche come attitudine insomma, no? A questo grande campione olimpico, sei medaglie olimpiche, mi go la medaglia del padre Pio, mi go la medaglia degli alpini di Valarsa, però insomma se mi impegno arrivo a sei medaglie, te vedrai. Grazie montagnoli. Grazie mille. eh? Grazie a tutti Grazie a tutti